Ciao a tutti, la rincarnazione esiste o no? Con questo video voglio fare alcune riflessioni sul tema della rincarnazione, perché è un tema molto importante. Siccome noi impostiamo le credenze profonde sulla nostra vita e su ciò che capiterà dopo la morte, determina come noi vivremo gli eventi della vita stessa, quindi non è una questione secondaria da sottovalutare. Ora, dobbiamo dire questo, di prove certe inconfruttabili a favore della rincarnazione non ce ne sono. Come non ci sono, d'altra parte, però, prove certe inconfruttabili della non esistenza della rincarnazione. Non ci sono prove certe inconfruttabili che la vita si esaurisca, diciamo, con la morte, né ci sono prove certe inconfruttabili che ci sia un al di là, secondo la tradizione cristiana, ad esempio, con l'inferno e il paradiso, oppure, insomma, di prove certe inconfruttabili non ce ne sono. Però ci sono diversi indizi e cerchiamo di analizzare questi indizi, perché direi che bisognerebbe partire con la mente libera, il cuore libero, e cercare di capire un po' le cose. Allora, intanto, la prima cosa di cui bisognerebbe rendersi conto in modo molto profondo è la certezza della morte e l'incertezza di quando moriremo. Perché tutti sanno che moriranno, però vedono la cosa come qualcosa di lontano. Nessuno pensa potrei morire in questo istante, oppure domani, oppure tra una settimana, dieci giorni, va a sapere quando e in che modo. Perché si cerca di esorcizzare la morte nascondendola, non pensandoci. Ma in realtà è un evento cruciale per la nostra vita, perché, diciamo, spesso noi facciamo delle cose, viviamo come se fossimo immortali e poi moriamo senza nemmeno aver vissuto di fatto. Quindi, renderci conto della certezza della morte e che può capitare in qualunque istante, questo è il punto fondamentale per affrontare il tema. Dobbiamo rendercene conto profondamente, non a livello emotivo. Quando pensiamo a questa cosa, dovrebbe venire, come dire, un groppone, un nodo nello stomaco, perché è comunque un tema molto importante. Allora, diciamo che uno potrebbe dire, affrontando il tema, in questo caso, proprio della rincarnazione, ma io non ho memorie di vite precedenti, per cui, boh, perché dovrei credere nella rincarnazione? In realtà, questo è vero, nel senso, se intendiamo la memoria come ricordo. Però dobbiamo tenere presente alcuni fattori. Io credo che probabilmente noi avremo, abbiamo dentro di noi molti, molte memorie di vite precedenti, soltanto che non dobbiamo confondere memoria con ricordo. Ti faccio un esempio. Io adesso, in questo momento, sto parlando. Sto parlando e mentre parlo, di fatto, accedo a delle memorie, perché ho imparato a parlare. C'è stato un momento, in questa mia vita, in cui mi hanno insegnato a parlare. E, piano piano, ho elaborato la capacità di linguaggio. Ma io non ricordo, effettivamente, come è avvenuto tutto il processo di apprendimento. Eppure sto parlando. Quindi vuol dire che nel momento in cui parlo, accedo a delle memorie. E molte persone accedono, quindi, a delle conoscenze, consapevolezze, che probabilmente hanno appreso in altre vite. Ci sono persone che nascono con talenti che non sono riconducibili a questa vita. Probabilmente, dal mio punto di vista, accedono a dei talenti, a qualcosa che hanno portato da altre vite. E' ovvio che quello che nella vita, diciamo, secondo, voglio dire, il paradigma della rincarnazione, con la morte, il corpo cessa di esistere, o perlomeno si trasforma. Il corpo fisico diventa, come dire, concime fondamentalmente. Ma anche la nostra mente, quella che noi chiamiamo mente, la mente cognitiva, razionale, cessa di esistere, non esiste più. Anche le nostre emozioni, ciò che abbiamo provato, che sarebbero le emozioni del corpo energetico fondamentalmente, o del corpo astrale, cesseranno di esistere. Quello che continuerà di vita in vita sono le impronte profonde. Le impronte profonde che vanno anche oltre le emozioni. Le impronte profonde sono quanto amore abbiamo sviluppato, quanta saggezza abbiamo sviluppato, anche quanti talenti profondi abbiamo sviluppato. Queste cose passano di vita in vita, in un continuum che va al di là del tempo e dello spazio. Potremmo dire che la nostra coscienza continua ad esistere al di là del tempo. E per continuare ad esistere, si manifesta in corpi diversi e in menti diverse. La scelta del tipo di corpo e del tipo di mente, diciamo così, più grossolana, dipende, secondo sempre il paradigma della reincarnazione, dal karma e dall'attitudine mentale che abbiamo. Il karma sono le azioni che abbiamo fatto. E questo ci dà, diciamo, fondamentalmente, ci dà la possibilità del libero arbitro. Cioè, diventiamo noi gli artefici della nostra vita essenzialmente. Non è più il caso, il destino, ma sono le cause, le azioni, i pensieri, le parole che noi diciamo, che determinano chi siamo in questa vita e chi saremo nella vita futura. Renderci conto di questo fatto fa sì che ci spinge a dare valore a delle cose a cui probabilmente magari non daremmo valore. Perché è molto diverso credere che la vita inizi da un punto A e finisca in un punto B. Allora, se io credo questo, diventa importante quello che faccio, ma neanche intanto come lo faccio. Cioè, potrei essere uno squalo, diciamo, che ha il suo successo sulle spalle degli altri, sulla pelle degli altri, e, boh, se tutto finisce lì, perché no? Se la faccio franca, vuol dire, perché no? Ma, invece, se inizi a credere che in realtà, come dire, la vita inizi in un punto A, finisci in un punto B, e poi ricomincia in un punto A, come dire, diventa un ciclo, un qualcosa che si ripercuote. E allora diventa molto importante ciò che io divento nella vita. Quanti veleni mentali riesco a battere, quant'amore riesco a sviluppare, perché questo mi determinerà fondamentalmente un ciclo evolutivo, cioè una crescita, e questa crescita si svilupperà fino al punto tale da poter arrivare a fuoriuscire da questo ciclo. perché, di fatto, il ciclo vitale è comunque un ciclo fatto di sofferenze. Abbiamo parlato di vari tipi di sofferenze. C'è la sofferenza quando uno soffre che sta male per qualche motivo, fisicamente, però c'è anche una sofferenza mentale, di paranoie fatte. La sofferenza mentale, soprattutto, dipende da quanta gelosia abbiamo, da quanto attaccamento abbiamo, da quanta rabbia abbiamo. Quindi eliminarla questa, già in questa vita, ci permette di non soffrire più mentalmente. ci permette di vivere meglio, già in questa vita. Quindi il paradigma della rincarnazione, indipendentemente dal fatto che sia vero o no, comunque ci spinge a eliminare i veleni mentali. Eliminare i veleni mentali, quali attaccamento, rabbia, invidia, gelosia, eccetera, eccetera, ci fa stare bene in questa vita. Perché se noi pensiamo a quanto soffriamo, ad esempio, per attaccamento, a quanto soffriamo per gelosia, a quanto soffriamo per rabbia, per invidia, è la maggior parte, sono la maggior parte delle nostre sofferenze. Quindi eliminare questi significa stare già bene in questa vita. Quindi io credo che, al di là di tutto, entrare in un paradigma di questo genere, oltre che penso che sia un dato di fatto, diciamo così, per i vari indizi, poi anche la quantistica supporta anche un po' queste cose, dicendo che è la coscienza che produce la materia, non è la materia che produce la coscienza. Ci dà la possibilità, comunque, di vivere meglio. Quindi comunque io esorto tutti a riflettere su questi temi, soprattutto sul tema centrale, che è quello della morte, e renderci conto che è un fatto che dobbiamo, in qualche modo, affrontare. Bene, per questo video è tutto. Ricordo due cose. Se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di partecipare a un'estrazione, di videocorsi con me sulla gestione delle emozioni, l'autostima, completi, gratuiti. Quindi iscriviti al canale, avrai questa possibilità. E ti ricordo inoltre che venerdì, 27 gennaio 2017, terrò a Torino un seminario sull'autostima e la gestione delle emozioni, il coinvolgimento emotivo. Quindi venerdì, 27 gennaio Torino, ore 20.45, educatore della provvedenza, in corso 30-13. Il riferimento è il 333-1511-703. Ciao a tutti.